Sì, passi sotto, fai! Guarda! Devo essere chiuso bene nella guarda! Devo essere chiuso bene nella guarda, sennò questo giocchino non mi viene! Non mi viene di avere l'applauso direttamente qua! Se dovesse davvero salvare, mi verso subito, immediatamente! Allora posso girare dietro e andargli avanti! Qua non croco più del coltello, perché qui comunque è arrivato a scegliere! Se dovessi continuare un attimo, le tecniche che conosciamo! Spangolamento, un po' sta! Ok! Attenzione perché è veramente costante questa chiusura! Proviamo!